Una buona serata dal telegiornale di Imperia TV e da Andrea Pomati. Guardia di Finanza e Procura della Repubblica d'Imperia hanno avviato un'indagine sul presunto utilizzo improprio da parte del sindaco del capoluogo Claudio Scaiola dell'Auto Blu del Comune sotto inchiesta anche l'autista del primo cittadino. I particolari in un servizio. Peculato d'uso e questo è il reato ipotizzato nei confronti del sindaco di Imperia Claudio Scaiola nell'ambito di un'indagine avviata dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza imperiese. L'inchiesta, come ha confermato il procuratore capo Alberto Lari, è partita da un esposto e riguarda l'utilizzo da parte del primo cittadino dell'Auto Blu del Comune per scopi che non sarebbero strettamente legati alla sua attività amministrativa. Le fiamme già nei giorni scorsi hanno acquisito documentazione presso la segreteria del sindaco a Palazzo Civico e consegnato un avviso di garanzia a Scaiola e all'autista comunale. L'indagine è simile a quella che nel recente passato ha riguardato la dirigente scolastica dell'Ipsia Marconi d'Imperia che era stata addirittura arrestata dai carabinieri, un arresto peraltro poi non convalidato dal magistrato. Nel caso di Scaiola però, a differenza di quello della dirigente scolastica, non c'è alcuna fragranza di reato ma episodi sui quali devono essere compiuti degli accertamenti e proprio per questo il procuratore Lari ha spiegato che è stata ritenuta doverosa la notifica degli avvisi di garanzia agli indagati. In merito a questa inchiesta avviata da Finanze e Procura, il sindaco d'Imperia Claudio Scaiola ha espresso ai nostri microfoni la sua assoluta serenità ma anche l'amarezza nei confronti di chi ha avanzato l'esposto alla procura. Sentiamo Scaiola. Signor Scaiola, lei ritiene di aver adoperato in modo non corretto l'auto blu del comune? Mi pare di no, anche perché francamente non ce ne sarebbe motivo. Si sa, si vede come io mi muovo, salvo quando è necessario. L'auto serve al sindaco e agli amministratori quando ci sono occasioni relative all'attività svolta, amministrativa, dal sindaco o dagli assessori. Ma non entro nel merito di questo perché c'è un'indagine in corso e quindi mi hanno proibito i miei avvocati di fare valutazioni su questa indagine. Posso semplicemente dire che sono venuti a chiedere in comune la documentazione su diversi aspetti di questa cosa, sono state consegnate tutte le documentazioni in maniera serena e con grande collaborazione. Non ho nessun motivo di preoccupazione, d'altra parte non l'ho mai avuta nella mia vita perché so di comportarmi bene, quindi non ho nessuna minima preoccupazione. Ho il rispetto verso coloro che lavorano e quindi ho il rispetto nei confronti di quelli che adesso seguiranno questa indagine e poi vedremo quale sarà l'evoluzione. Ma voglio che si rispetti anche il mio lavoro. Io lavoro non so quante ore al giorno e quante ore di notte per dare il mio contributo perché Imperia possa crescere e svilupparsi. Tante cose si incominciano a vedere, tante cose non si vedono ancora. Lavoro molto, spero di lavorare anche bene perché Imperia possa crescere e quindi dare lavoro ai nostri figli, dare prospettive. Certo sono un po' stanco, sono stanco dal lavoro che svolgo e le assicuro che quando lavori, fatichi per un interesse pubblico e senza un interesse personale, ecco un po' amareggia pensare che ci sia qualche manina che fa esposti o che fa o che pensa che fare il bene della città sia quello di disturbare il manovratore invece che collaborare. Ma passerà. Il mio tempo non viene diminuito da questa vicenda neanche di un minuto per svolgere il mio compito da sindaco. Questa cosa è avvenuta un paio di giorni fa. Ho proseguito a fare il mio lavoro continuamente. Più di prima, se qualcuno pensa che si possa indebolire il mio lavoro attraverso invenzioni o calunnie, ha sbagliato. Il Tribunale di Imperia ha rinviato il piano concordatario di Aiga al prossimo 11 novembre. Il rinvio è stato chiesto dal sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino in modo che la società partecipata possa avere più tempo per elaborare una strategia che consenta la salvaguardia delle ditte creditrici, in particolare in un altro servizio firmato. È stata rinviata la presentazione del piano concordatario per evitare il fallimento di Aiga, la società partecipata del comune di Ventimiglia, direttamente coinvolta come l'imperiase Amat nelle vicende dalla gestione del ciclo idrico integrato delle acque da parte della società pubblica Riviaracqua. Il rinvio è stato chiesto ai giudici del Tribunale di Imperia e dal sindaco Ventimigliese Gaetano Scullino che ha spiegato come sia necessario avere più tempo a disposizione per elaborare un piano che consente di evitare il fallimento di Aiga, ma anche di scongiurare gravi ripercussioni sulle ditte private che forniscono beni e servizi alla stessa società e che sono creditrici nei suoi confronti. Scullino ha garantito che il comune di Ventimiglia farà tutto il possibile per cercare di migliorare il piano concordatario di Aiga. La presentazione del piano è stata quindi rinviata all'11 novembre nell'esclusivo interesse dei creditori. Gaetano Scullino ha anche sottolineato come la gestione dell'ambito idrico da parte di Riviaracqua si sia rivelata un fallimento e come sia quindi necessario un repentino cambio di rotta. Europa e Mediterraneo più vicini con la Galleria Armo Cantarana lo evidenzia la Camera di Commercio di Cuneo attraverso il presidente Ferruccio Dardanello che indica l'opera come un'infrastruttura strategica per i collegamenti fra Basso Piemonte e Liguria. Vediamo. Piemonte e Liguria più vicine con i loro simboli, montagna e mare, che si incontrano. Questa è l'immagine suggestiva che è stata evocata nella presentazione ufficiale del progetto definitivo del traforo Armo Cantarana, organizzata dalle due Camere di Commercio di Cuneo e delle riviere della Liguria, promotrici dell'opera che in soli nove chilometri potrà più agilmente collegare la Valtanaro ai territori dell'Imperiese e del Savonese. Sotto una tensostruttura allestita nell'area antistante, il foro pilota che l'ANAS nel 92 aveva realizzato a fronte di un progetto preliminare per testare la sostenibilità del terreno, si sono radunate moltissime autorità, sindaci, amministratori e rappresentanti delle forze economiche di entrambi i versanti territoriali per sostenere con ferma convinzione l'opera infrastrutturale. Protagonista assoluto dell'incontro, quel sogno è rimasto sulla carta per quasi 30 anni e che ora, grazie all'impegno dei due enti camerali, ha già ottenuto il benestare ministeriale e a breve potrebbe portare a casa anche il parere favorevole del Cipe, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica. Infatti nei prossimi giorni proprio il Cipe valuterà il nuovo contratto di programma tra Ministero dell'Infrastruttura e ANAS, comprendente il progetto esecutivo del traforo Armo Cantarana, redatto da ANAS nel 2013 e aggiornato ai costi attuali. Ad autorizzazione avvenuta inizierà l'iter burocratico fino all'avvio dei lavori, con tempi stabiliti di due anni e nove mesi e un costo stimato di 304 milioni di euro. Avere il mare, la montagna, l'arte, la cultura, la storia, le colline, le emozioni della tavola come sono in questa terra più ampia delle Alpi del mare, mi piace sottolinearlo, delle Alpi del mare, questo grande disegno che 25 anni fa avemmo l'idea di poter in qualche modo mettere insieme e al quale dare valore e dare prospettiva. Questo nuovo collegamento, questi 9 chilometri veramente potranno essere la miccia sul quale incendiare nuovi grandi interessi, non solo per la valorizzazione di queste vallate che stavano soffrendo, queste aree fragili che avevano nuova difficoltà a trovare soluzioni importanti per il loro futuro, sia da parte piemontese che da parte ligure, ma veramente rimettere in modo meccanismi anche di unità collaborativa, di scelte strategiche prese insieme. Ecco, questo è veramente il valore aggiunto dal quale noi dobbiamo attendere tanti risultati e auguriamoci per il nostro futuro. È fondamentale perché apre al Piemonte Sud la possibilità di collegarsi direttamente in modo molto rapido con il corridoio europeo TNT-Marsiglia-Genova-Rotterdam che è uno dei più importanti e tutto questo oltretutto può dare agli imprenditori, alle popolazioni e agli amministratori di questi territori la spinta per avere più entusiasmo, la spinta per capire che siamo dentro una grande visione, capire che ci sono tante opportunità che si possono cogliere e quindi lavorare tutti insieme per realizzare presto quest'opera e entrare in una dimensione ancora più grande di quella che già abbiamo oggi. Quando ci si è resi conto che era già in fase di progettazione definitiva e che c'era un'attenzione grande dei territori è rientrata tra le priorità, quindi nell'ambito di questo progetto che il Ministero sta seguendo dello sblocca cantieri è stata inserita perché veramente è considerata importante e prioritaria e speriamo che dopo questa fase di progettazione si arrivi presto a inaugurare, a tagliare il nastro. È importante, però non basta perché dobbiamo inserirlo nella viabilità sia verso il Piemonte che verso Imperia, altrimenti creeremo dei problemi non da poco. Qualsiasi opera pubblica che ti connette con gli altri è strategica, ha maggior ragione quando noi abbiamo tutti i progetti delle Alpi del Mare e quindi quando noi ragioniamo di un Piemonte che non è più solo il nord-ovest dell'Italia ma che insieme alla Liguria è il cuore dell'Europa. Questa è la logica di ragionamento. I nostri partner, il PACA, il Ronald, il Baden-Württemberg sono loro i nostri confinanti di oggi e naturalmente per competere con loro Piemonte e Liguria devono essere molto più unite di prima. Adesso ci spostiamo a Sanremo dove la Lega ha presentato un ordine del giorno per la prossima seduta del Consiglio Comunale a tutela delle fasce più deboli. Il riferimento è a persone con disabilità permanente, donne in gravidanza e minori di due anni e over 65. L'intento è quello di dedicare a queste categorie l'accesso prioritario agli uffici dell'amministrazione comunale. Il servizio. Un ordine del giorno è stato presentato dalla Lega da inserire nel prossimo Consiglio Comunale di Sanremo. All'amministrazione viene chiesto di introdurre una regolamentazione che consenta l'accesso prioritario a tutti gli uffici comunali delle persone con invalidità permanente, delle donne in stato di gravidanza o con bambini con meno di due anni e degli adulti con più di 65 anni di età. Secondo recenti studi e previsioni elaborate da Confartigianato basati sui più recenti dati Istat, si legge nella richiesta del Partito del Carroccio, nel 2050 la popolazione Ligure diminuirà dagli attuali 1.566.944 abitanti a poco più di 1,4 milioni. In questo stesso arco di tempo, gli over 65 passeranno dai 443.783 di oggi a oltre 494.000, incidendo per oltre il 35% della popolazione totale. L'età media in Liguria crescerà attestandosi, secondo le previsioni, da 48,5-51 anni contro una media italiana prevista di 50,1 e che a oggi la Liguria con 48,5 registra l'età media più alta d'Italia, a livello nazionale di 44,7, seguita dal Friuli Venezia Giulia 46,9 e Toscana 46,5. L'età media della provincia d'Imperia appare fra le più alte d'Italia con 48,2 e gli over 65 sono quasi 59.600. L'attuale Governo ha attuato plurime misure a sostegno delle politiche sociali e che all'interno della legge del 30 dicembre 2018, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, sono state previste ulteriori misure a sostegno del nucleo familiare e delle lavoratrici in gravidanza. Appare opportuno e necessario dare un concreto supporto nei confronti delle sopracitate categorie di persone, conclude la Lega, in tutti gli ambiti del vivere quotidiano e nelle modalità pratiche con le quali l'amministrazione si relaziona con l'utenza. Per il disastro di Ponte Morandi a Genova ora scattano indennizzi anche per gli autotrasportatori. Una delibera in questo senso è stata infatti firmata dal Commissario per l'Emergenza di Ponte Morandi e Presidente della Regione Giovanni Totti. Vediamo. Il Commissario delegato per l'Emergenza di Ponte Morandi Giovanni Totti ha firmato la nota di liquidazione per avviare i pagamenti a favore degli autotrasportatori che a causa del crollo del viadotto Porcevera hanno dovuto affrontare spese maggiori per la percorrenza forzata di tratti autostradali o stradali aggiuntivi. Le richieste di risarcimento accolte dall'autorità di sistema portuale e risultati ammissibili sono state poco meno di 900.000 per 643 imprese sia per le missioni di viaggio portuali sia per quelle urbane e di attraversamento del nodo genovese. Per l'anno 2018 da parte del Ministero erano stati trasferiti sulla contabilità speciale della struttura commissariale 20 milioni di euro che verranno esauriti per indennizzare tutti i richiedenti. Nei mesi scorsi, inoltre, per portare a totale compimento il complesso impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti e dare continuità al lavoro portato avanti fino ad oggi, erano stati definiti i provvedimenti e le procedure per il ristoro delle annualità 2019-2020, in modo da tener conto anche dei tempi di sosta all'interno delle aree del porto. Ancora a Genova dove hanno preso il via i lavori che porteranno al ripristino delle aiuole nei viali Duca d'Aosta, Brigate Partigiane e Brigata Bisagno. Nella zona torneranno gli antichi splendori degli anni 60 con prati, fioriture e piante perenni. Vediamo il servizio. Finalmente oggi, dopo 14 anni, parte il cantiere per il rifacimento delle aiuole di viale Brigata Bisagno e viale Brigate Partigiani, un'opera importante, parliamo di uno dei simboli di Genova, quindi una via che peraltro per 14 anni è stata un po' abbandonata. Noi faremo un'opera che andrà a ricostruire, a rivedere il progetto dell'architetto Danieri del 1958, quindi ci saranno delle decorazioni floreali che sono assolutamente coerenti col suo progetto iniziale. Ricreeremo questo biglietto da visita per chi viene anche da fuori Genova, siamo partiti facendo la rotonda circa due anni fa e adesso andremo a completare con un'opera da 2 milioni e 4, quindi un'opera importante che è cofinanziata per 1 milione e 6 dalla regione, 800 mila euro dal comune, che dovrebbe concludersi entro maggio del 2020 e sarà assolutamente uno dei segnali più importanti che dobbiamo dare alla città per far capire che la città non gestisce il degrado ma gestisce la riqualificazione, deve riqualificare Genova e diventare bella. E adesso torniamo a Cosio d'Arroscia perché in occasione della tradizionale festa delle erbe sono intervenuti anche il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana e l'assessore regionale Marco Scaiola. Entrambi hanno evidenziato ai nostri microfoni l'importanza del mantenimento delle tradizioni, soprattutto nei piccoli borghi. La festa delle erbe di Cosio d'Arroscia è un classico, è un appuntamento che ormai ha avaricato i confini della Valla Arroscia e anche del territorio provinciale imperiese. È presente non a caso il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana. Per la verità lei Piana non avrebbe mancato comunque al di là del ruolo istituzionale, ma è una festa che effettivamente attira tantissime persone da tutta la Liguria, non solo. Sì, assolutamente. Soprattutto stavo notando, perché ero qua all'ingresso, che aspettavo anche i vari amministratori che arrivassero, molti giovani, molte persone giovani, molti ragazzi e ragazze di una certa età, quindi è importante partire col piede giusto. È una festa che negli ultimi anni ho sempre cercato di essere presente perché è molto piacevole. È la festa delle erbe, è la festa degli odori, è la festa dei sapori, è la festa dei prodotti del nostro territorio ottenuti con tantissima fatica e grande sacrificio, ma che sono premiati da una qualità finale eccezionale. Quindi, oltretutto, in una location particolare come Cosio d'Arroscia, una borgata antica, alpina, una delle poche rimaste ancora intonse a livello regionale e con dei carruggi meravigliosi, delle case in pietra meravigliose, dei ciotolati fantastici. Quindi credo che ci sia tutto per poter fare una festa anche quest'anno agli onori della cronaca. Sessore Marco Scaiola, un altro appuntamento qui a Cosio d'Arroscia, una tradizione che si rinnova e una tradizione che viene apprezzata dal pubblico. Ma credo che oramai siano 5-6 anni che non manca questo appuntamento. È una bellissima manifestazione organizzata qui dagli amici di Cosio d'Arroscia, ma è un evento non solo di questo splendido paese dell'entroterra, ma raccoglie tantissimi ospiti che arrivano da tutte le parti. Una bellissima manifestazione che sottolinea quanto sia importante l'entroterra, quanto siano importanti i collegamenti con l'entroterra. Ecco perché sono particolarmente orgoglioso di una notizia che ovviamente è uscita pochi giorni fa, che come fondo strategico abbiamo ulteriormente finanziato con più di 500 mila euro l'intervento per ricollegare una zona meravigliosa del nostro entroterra, Chemonesi, e che possa dare sviluppo a tutta questa valle, perché ovviamente quando ripartono i collegamenti non ne ha solamente i benefici, una località, ma lo ha tutto il comprensorio sul quale bisogna investire e le infrastrutture sono sicuramente fondamentali per rilanciare i nostri paesi. Giovedì a Villa Scarsella, Diano Marina si terrà la prima delle quattro serate della seconda edizione della rassegna ideata da Antonio Carli e intitolata Folk Indiano. I prossimi eventi il primo, il 14 e il 22 agosto, ma per saperne meglio e di più abbiamo i nostri microfoni appunto. Antonio Carli. Antonio Carli non ha bisogno di presentazioni, ma merita presentare Folk Indiano, questo festival di cultura popolare che porti a Diano Marina comincia il 25 luglio con Tre Lio, storie di Piemonte ed intorni, ma dal Piemonte poi passeremo per la Liguria per arrivare addirittura a Roma, giusto Antonio? Esatto, esatto. Sono quattro appuntamenti, in realtà più che portarlo Folk Indiano nasce proprio a Diano Marina da un'idea mia e del sindaco Giacomo Chiappori che ha fortemente voluto conservare le tradizioni della cultura popolare del nostro paese e trasferirle diciamo nel ventunesimo secolo. Questa è l'idea di fondo che ha motivato noi a creare questo festival e si gioca sull'assonanza Folk Indiano come in Diano Marina e naturalmente indiano come in una riserva indiana. Questo titolo che poi diventa anche un tormentone, un jingle, è piaciuto molto al pubblico e ci sta portando fortuna. Come dicevi sono quattro appuntamenti. Il primo, visto che noi abbiamo una grandissima presenza di turismo piemontese, ci è sembrato giusto e bello fare un omaggio ai nostri ospiti con questo gruppo straordinario di fantasisti. Si può dire che sia musica barè, sono dei clown che fanno uno spettacolo esilarante, suonano anche con la banda Osiris. Io li ho visti, sono veramente divertentissimi. Poi c'è la seconda serata che è la serata del premio con ospiti davvero d'eccezione perché abbiamo Giampiero Aloisio che è stato l'inventore insieme a Giorgio Gaber del Teatro Canzone. Infatti ci racconterà Giorgio Gaber e quegli anni. Maurizio Lauzi, il figlio del grande Bruno Lauzi. Quindi abbiamo le due facce di Milano ma che poi arrivano a Genova. E poi abbiamo un ospite che è un amico che viene a trovarci per simpatia che è il Franco Fasano che tutti conosciamo come grande autore, cantautore e chissà il pianoforte sul palco, qualche cosa potrebbe succedere. La terza serata è il 14 di agosto con Creuse de Ma, che è uno spettacolo che ha debuttato in prima nazionale l'anno scorso proprio a Diano Marina, a Folk Indiano. Quest'anno abbiamo arricchito, visto che cade il ventennale dalla morte di D'André, abbiamo arricchito di più repertorio. Quindi è uno spettacolo vero e proprio su tante canzoni di D'André e aneddoti interessanti sulla storia della sua musica. E aggiungo io, in questo caso, Antonio Carli canta la Genova di D'André. Esatto. Spero degnamente, insomma, l'anno scorso è piaciuta, spero che continui a piacere. Comunque sono circondato da musicisti straordinari, quindi è uno spettacolo di assoluto godimento e anche di qualche emozione, mi hanno detto. L'ultima sera vogliamo finire alla grande e comunque vogliamo far ridere, noi vogliamo far divertire. Per questo ho preso gli stornellatori romani in costume da rugantino, che inizieranno lo spettacolo in una maniera imprevedibile e concluderanno lo spettacolo in una maniera imprevista. Quindi, diciamo, tutta una sorpresa per far divertire il nostro pubblico. Quindi 25 luglio con Tre Lilu e siamo in Piemonte. Primo agosto questo premio Forchindiano con gli ospiti che ci hai detto, importanti, di prestigio. Ancora Creusa de Ma il 14 di agosto. 22 agosto, gran finale appunto con le canzoni da Roma. Tengo a ricordare una cosa che ho avuto il piacere di trovare riscontro da parte del sindaco, dedicare il nome del premio Forchindiano per la cultura popolare, intitolarlo a mio papà Franco Carli. E questa è una cosa che mi fa molto piacere ed è un punto d'onore che do in più alla città di Diano Marina, che ha voluto riconoscere il grande lavoro che mio papà ha fatto in tutta la vita per la cultura popolare, dedicandogli un premio. In campionato il Sanremo Baseball è meritatamente in testa al proprio gironi. La prima squadra del Sanremo Baseball ha infatti sconfitto i Jacks di Torino per 10 a 7. Vediamo. Partita vincente ed emozionante quella giocata domenica scorsa dalla prima squadra del Sanremo Baseball contro i Jacks di Torino. La partita si è conclusa con la vittoria dei giovani abilmente guidati da Partenò e Bottero per 10 a 7. A vincente perché gli avversari inizialmente sotto per 4 a 2 hanno caparbiamente recuperato il divario passando in vantaggio e portandoli a giocare il nono inning sulla parità del 7 a 7. Emozionante perché ai t-break i matuziani realizzavano tre punti e al momento della difesa davano vita ad uno dei giochi in assoluto meno frequenti nel baseball. Una tripla eliminazione iniziata con un'acrobatica presa al volo in tuffo effettuata dal lanciatore Simone Campo, battitore eliminato con successivo tiro a Angeloni in prima base che immediatamente passa stabile in seconda base e conseguentemente eliminati i due corridori già presenti sulle basi del regolamento. Il tutto è durato al massimo due secondi, quelli sufficienti a farli vedere forse la più rara delle giocate nel baseball. È più facile vedere un fuoricampo o un grande slam. Di fatti Nunez nel corso della partita ha realizzato il suo quarto fuoricampo. Evidentissima la gioia manifestata da tutta la squadra a tutta la squadra perché la vittoria è stata promossa da tutti i giocatori ed il primo posto in classifica rende tutti più contenti. Adesso Riviera Eventi, poi le notizie relative all'autostrada dei Fiori. Eventi, poi le notizie relative all'autostrada dei Fiori. Non sono segnalati i cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti i cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. E inoltre a disposizione il sito www.autostrada dei Fiori.it Ed è tutto per questa edizione, grazie per il vostro cortese ascolto da Andrea Pomati, lavoro di trascorrere una buona serata. Arrivederci sempre su Imperia TV. Grazie a tutti.